Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Napoli, sotto il coordinamento della Direzione Distretto Antimafia Pertenopea, ha dato esecuzione in Marano di Napoli ad un provvenimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per circa 245 mila euro nei confronti del figlio di un esponente di un noto clan attivo nell'area nord del capoluogo campano. Nel corso delle contestuali perquisizioni sono stati sequestrati anche denaro contante, oggetti d'oro, olorogi di pregio, effetti cambiari, polizze assicurative, depositi e titoli bancari. Le indagini eseguite dagli specialisti del gruppo tutela spesa pubblica con il supporto dei colleghi del GICO, dello stesso Nucleo e del Comando Provinciale hanno avuto la finalità di reprimere le indebite percezioni di contributi e finanziamenti pubblici garantiti dallo Stato durante l'emergenza sanitaria da Covid-19. Infatti la normativa antimafia preclude a determinati soggetti condannati per reati di tipo associativo e o colpiti da interdittiva antimafia l'accesso a pubbliche provvidenze, siano esse sotto forma di contributi, finanziamenti e o altre agevolazioni. Gli accertamenti eseguiti avrebbero consentito di accertare come il citato soggetto, legato da vincoli parentali ad ambienti della criminalità organizzata, pur essendo colpito da interdittiva antimafia o mettendo le relative informazioni in sede di richiesta di benefici economici connessi all'emergenza Covid-19, avrebbe indebitamente percepito sostegni finanziari pubblici. L'attività dei finanzieri di Napoli si inquadra nel più ampio quadro delle azioni svolte dal corpo a contrasto delle frodi nel settore della spesa pubblica, al fine di assicurare il sostegno alla corretta attribuzione di importanti risorse pubbliche e a favore dell'imprenditoria sana, soprattutto in un momento caratterizzato dalla crisi economica legata all'emergenza pandemica.